E' arrivata un'altra convocazione nella nazionale Under-16 per Anita Bartoli, che si appresta quindi a giocare l'europeo previsto da lunedì 29 luglio fino al 2 agosto a Zagabria in Croazia. Altra gioia per le nuove Pantere Lucca, società nella quale Anita è iniziato e sta continuando il suo percorso di crescita. Per la numero 20, classe 2004, nel ruolo di interbase, convocata già la scorsa stagione nella nazionale Under-13, si tratta di un importante riconoscimento che corona una stagione fantastica. Da sottolineare per Anita l'esordine a due da titolare nella formazione dell'Unione Soft-Massa-Lucca, unione che ha coinvolto per quest'anno anche la categoria Under-12, regalando gioia e qualificandosi per i quarti di finale nazionali e la conquista dei play-off nella categoria Under-18. Il ritiro della nazionale è iniziato mercoledì scorso a Ronchi dei Legionari, dove lo staff della squadra avrà sicuramente modo di migliorare e correggere alcuni dettagli, aspettando il giorno tanto atteso della partenza per la Croazia. Un europeo che si prospetta quindi interessante per l'Italia Under-16, reduce dal successo del torneo Vittorio Pino di Legnano con la vittoria in finale per 6-1 contro il Dream Team. Tutti i dirigenti, consiglieri, allenatori e atleti delle nuove pantere seguiranno con trepidazione l'avventura in azzurro della loro atleta e fanno un grande in bocca al lupo ad Anita per questa esperienza a dir poco fantastica, che le darà sicuramente forti emozioni e che la farà crescere ancora.